Musica 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 E' un macello, i carabinieri, protezione civile, ma sono venuti anche ieri tutto Un macello, mai successo mai Così no, 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 no E' stato anche due o tre anni fa, ma l'acqua non era arrivata lì dove la vedete adesso E' andata via persino una famiglia con un bambino nato da due mesi E' 60 anni che abito qui e non ho mai visto una cosa così, in grande E' sempre stata limitata, il giorno dopo calava, qui invece cresce, cresce Noi siamo due potenze regionali che hanno ruoli di crescita E' una grande responsabilità insieme agli altri membri che ci sedono di questa fase E' fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza e per la sicurezza economica E' esprimo le mie condolianze ai danni causati dalle vittime dal mar sempre in temi di Romagna Preghiamo per una pronta ripresa Buongiorno cari telespettatori Nella nostra copertina diciamo i due temi di grande attualità di queste ore Intanto il disastro dell'Emilia Romagna Ci sono 14 morti, stamattina è stato rinvenuto una quattordicesima vittima Un uomo anziano nel cortile della sua casa di Faenza Ci sarebbero ancora alcuni dispersi Ci sono oltre 10.000 sfollati Il fango che ricopre ogni cosa Ci sono interi paesi devastati C'è grande preoccupazione per la piena dei fiumi Ma anche per nuove possibili frane Sono tornati, lo avete visto, gli angeli del fango Volontari da tutta Italia per dare una mano alle popolazioni colpite I danni, lo diceva ieri il presidente della regione Emilia Romagna Ammonterebbero già a diversi miliardi Ma non è ancora tempo per poterli quantificare Il governo martedì dichiarerà lo stato di calamità E sembra voglia attingere anche al fondo di solidarietà europeo Considerando che l'Emilia Romagna è una delle regioni motore Per la crescita del PIL di questo paese Anche oggi è una giornata di allarme, di allerta rossa nella regione C'è preoccupazione per il maltempo anche su altre regioni italiane In sottofondo ci sono anche le polemiche per il concerto Ieri sera a Ferrara di Bruce Springsteen Al quale hanno partecipato circa 50.000 persone C'è stata appunto una polemica tra la regione e il sindaco Intanto si è aperto poco fa in Giappone il vertice del G7 Una prima sessione diciamo così dedicata all'economia globale Preceduta da un incontro dei leader europei Che partecipano al G7 Giorgia Meloni ha avuto anche un bilaterale Col premier canadese Trudeau Hanno parlato ovviamente di Ucraina e di molte altre cose Trudeau però era anche preoccupato su alcune questioni Che riguardano i diritti LGBT in Italia Con Meloni che ha replicato Noi stiamo diciamo viaggiando Sulla scia di quello che hanno fatto i precedenti governi Il vertice del G7 appunto è dedicato in gran parte all'Ucraina Ma anche ai rapporti con la Cina Con l'espansionismo cinese Il leader cinese Xi Jinping Tiene un controvertice Mettiamola così con i paesi dell'Asia centrale Quindi insomma abbiamo di che parlare e molto Lo facciamo oggi con l'onorevole Elena Bonetti di Italia Viva Già ministro per le pari opportunità della famiglia Benvenuta Per la maggioranza c'è con noi il senatore Marco Scuria di Fratelli d'Italia Grazie e benvenuto In studio con noi c'è Massimiliano Lenzi Giornalista e scrittore Ciao Massimiliano Collegato con noi c'è Alberto Negri del Manifesto Bentornato Alberto Buon giornato a tutti Grazie Nella parte finale lo dico come per anticipare un sommario Avremo il presidente del consorzio Corepla Che compie 25 anni di attività Il consorzio per il riciclo della plastica Sapete che l'Italia è il leader nel riciclo E c'è tutta una questione che riguarda Poi una cherelco l'Europa Riciclo, riuso Ma insomma ne parliamo nella parte finale Allora vado subito intanto da Gui Chiappaventi Che è collegato con noi credo dalla provincia di Ravenna Ciao Gui, buongiorno Buongiorno, siamo alle porte di Ravenna Fra Villanova di Ravenna e San Michele Come vedete la campagna è completamente allagata Abbiamo lasciato stamattina Lugo di Romagna Io ritorno in cuffia Vi prego di togliermi l'equo Altrimenti mi diventa difficile la diretta Grazie La campagna Abbiamo lasciato Lugo di Romagna Che era ancora completamente allagata L'acqua è scesa un po' in centro Ma è defluita nelle zone diciamo in direzione mare In strade dove ieri si camminava regolarmente Oggi c'era un metro d'acqua Sono i canali di contenimento Dei fiumi Segno e Santerno Che non reggono più E quindi diciamo che la piena si sta spostando Qui da stamattina piove È una pioggia moderata Nulla a che vedere con le piogge dei giorni scorsi Delle piogge di lunedì e martedì Quando ho fatto 300 millimetri cubi di acqua In circa 36 ore per capire significa 300 litri per metro quadrato Però rimane un'allerta Una criticità rossa Per allarme idraulico e idrogeologico Cioè il terreno non regge E appunto dicevo ci sono nuove sondazioni Io stavo vedendo proprio adesso in diretta Che il comune di Ravenna alle 9 Ha disposto l'evacuazione totale immediata Di Piangipane e Santerno E case sparse È obbligatorio lasciare l'abitazione Fino a cessata l'esigenza Passare parola C'è anche l'appello a non spostarsi La viabilità è veramente complicata La mia intenzione era E rimane ancora quella di spostarmi verso il mare Verso Cervia Ma appunto Seguendo il navigatore indicava questa strada Ma potete vedere L'operatore può inquadrare alle mie spalle Come la campagna portava su un cavalcavia Al di là del quale la campagna è totalmente allagata E mi spiegavano i vigili urbani La polizia locale Che sono ancora in corso Evacuazioni da parte dei vigili del fuoco Con i gommoni C'è un problema anche Di segnale internet Di telefono A Lugo per esempio Non funzionavano i telefoni Non funzionava internet C'è un problema di corrente elettrica Rispetto a ieri sera Quando c'erano circa 27-28 mila utenze staccate La situazione è un po' migliorata Ma insomma è ancora molto complicato Non avere la corrente elettrica Significa non avere frigoriferi che funzionano Non significa non poter accendere il fornello del gas Quindi c'è anche una richiesta da parte dei sindaci Di inviare cibo, acque E una colonna della protezione civile Di 50 mezzi Si stava muovendo proprio verso Lugo di Romagna Per cercare ancora di evacuare le persone Perché questo Diciamo a distanza ormai di diversi giorni Dal momento più critico dell'emergenza Rimane ancora un problema La conta delle vittime Dicevamo tra l'altro Anche questo ci dà il punto della situazione È salita Siamo arrivati a 14 persone Un anziano Oltre 80enne È stato trovato nel cortile di casa sua Vicino alla stazione di Faenza E dicevo La piena si sta spostando Ci sono posti Voi parlavate di questi angeli del fango Dei volontari C'è un appello da parte dei sindaci Anche il sindaco di Cervi Ha fatto un appello Veniteci a aiutare Venite a ripulire Aiutateci a scavare Ma ci sono posti come questo Appunto da dove ancora Non si riesce a capire Non c'è niente da scavare Perché c'è ancora troppa acqua Insomma la situazione È veramente complicata Vi dicevo di questa nuova allerta E vediamo insomma Vediamo Io proverò più tardi A raggiungere il mare Dove tra l'altro Mi dicevano Nella zona di Tagliata Cervia Si sta spostando Anche lì l'allarme Io se non ci sono domande Vi restituisco la linea Grazie Grazie a cui che appaventi Le immagini Quello che ci ha raccontato Le immagini Parlano più di ogni altra cosa Buon lavoro Noi andiamo in pubblicità Allora Indubbiamente Queste devono essere Le ore Diciamo Dei soccorsi Con le persone Ancora che vivono Tra mille difficoltà In Emilia Romagna Come ci raccontava Il nostro inviato E come vediamo Insomma Da queste immagini Terribili Si è però Aperto Ovviamente Come sempre accade Nel caso di eventi Di questo tipo Anche se questo è un evento Straordinario La polemica La polemica Si è stato speso Si è stato speso Sin qui Ecco Tanto per capirci Massimiliano Lenzi Partiamo dal fatto Che non c'è dubbio Che i cambiamenti climatici Tutto quello che ci siamo raccontati Fino ad oggi Incidono Intrecciano Con queste situazioni La siccità E oggi Queste Alluvioni Di sapore tropicale Semi tropicale Come è stato detto Però poi Sui territori Le cose Parte in Emilia Romagna Ma anche in Emilia Romagna Non vengono fatte Beh Sono anni Che noi parliamo Della fragilità Del nostro territorio No? A fronte di fatti Di cronaca Tragici Che ci rimandano Immagini Come quelle Che abbiamo visto Nel collegamento Che ci ha preceduto I soldi Come sono stati spesi Sono stati spesi Cosa è stato fatto Cosa non è stato fatto Secondo me Questo processo Però non può cominciare oggi Oggi c'è Da salvare un territorio Una comunità E delle persone Trovo anche abbastanza Squallido Rimpallarsi Le responsabilità Politiche A tragedia In corso Finita La tragedia Cioè Soccorse le persone Toccherà individuare Serie responsabilità E fare un piano Però Serio Per tutto Il territorio nazionale Mi ricordo Ne parlava Renzi Ai tempi Del suo governo Perché La fragilità Idrogeologica Italiana Non riguarda Soltanto L'Emilia Romagna Noi siamo Un miracolo Costruito Capito? Sì Su un terreno Fragile Un'alchimia E quindi Dovremmo fare Un piano Serio Per tutelare Noi stessi Anche gli allarmi Del clima Perché anche La palla Sempre Oddio Il clima Sì 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 È un alibi No? È un alibi Perché anche del clima Quanto è che stiamo discutendo Ragionando E parlando Quindi le responsabilità Della politica Vanno individuate Non vanno però Secondo me processate Oggi Superata la tragedia Aiutate quelle genti Fatta ripartire Questa terra Che è un pezzo Importante Della nostra economia Come no? Per tessuto economico Per tessuto agricolo Per turismo Ripartire Negri Sommerso italiano È la copertina Del manifesto Di oggi Ma sai Io penso che Bisogna cercare di fare Già quello Che si può fare Ogni comune italiano Ha a disposizione O avrebbe a disposizione Una mappa Idrogeologica Se qualcuno Avesse mai visto Una di queste mappe Si renderebbe Benissimo conto Che per esempio Non c'è nessuna Licenza edilizia Che si può concedere In violazione Di una mappa Idrogeologica Che impedisce O che comunque Individua Quelle che sono Le zone di fragilità Di un territorio Quindi bisogna applicare Già Quello che abbiamo Le leggi che ci sono E purtroppo Bisogna dirlo Cioè Qui si succedono I governi Anno dopo anno Stagione dopo stagione E l'impressione È sempre Sempre quella Che nessuno fa nulla In realtà Si può fare qualcosa Tutti i giorni Non ci sono dubbi Soprattutto se si fosse Fatta prevenzione Mettendo in sicurezza Appunto Gli argini E via dicendo Poi adesso In questi Come sempre Avviene per tragedie Come queste Tutti diventiamo Esperti Di idraulica Con terminologie Che insomma Non è semplice Da masticare Voglio andare Da Elena Bonetti Perché è stato Richiamato Italia Sicura Noi ieri Abbiamo fatto anche Vedere L'intervento Di intervento Di Renzi Al Senato Quando il governo Giallo Verde Smantellò Italia Sicura Con noi Ieri c'era Grassi Che all'epoca Era direttore Di Diciamo Di Italia Sicura E lui dice Bisognerebbe mettere in campo Un piano Pluriennale 20 anni Con risorse certe Le anche indicate 5 miliardi All'anno Un piano Che però Nessun governo Che si avvicenda Può smantellare Cioè lì Inciso nel marmo Forse È una prima strada Però Diceva Negri Giustamente Tanti governi Sono passati A tante tragedie Purtroppo abbiamo assistito La situazione è questa Quella proposta Che è stata Richiamata E smantellata Di Italia Sicura Noi l'abbiamo Richiesta Con forza Al governo Avevamo ottenuto Sembrava Un impegno Inserito Ma di fatto Ancora Non era stata Rimesse in campo Qual è L'elemento E perché Quella proposta Era stata anche Considerata A livello internazionale Una buona pratica Un buon modello Sì Di fronte a questi Fenomeni Così complessi Serve una capacità Di governo Del fenomeno Di sistema Preventivo Messa in sicurezza Di gestione Dell'eventuale Catastrofe Che non era Magari Ipotizzabile Nella sua portata E una regia Complessiva Della presa in carico Di quello che c'è da fare Cosa succede? Che nel nostro paese Purtroppo Le amministrazioni Ognuno pensa Al suo pezzetto Ognuno pensa Al proprio territorio Nel disegno Dell'autonomia La cosa verrà Esasperata Serve una strategia Che metta E connetta Tutti gli attori In campo Che sia efficace Nel valutare Se gli obiettivi Sono stati raggiunti Se i soldi Sono stati spesi Se sono stati spesi Bene Se non sono stati spesi Male E correggere il tiro E farlo con un approccio Di visione Di lungo periodo Per fare questo Serve però Cambiare un po' L'approccio nostro Al governo Italia sicura Era un modello A cui guardare Serve anche Come nel caso Della messa in sicurezza Del territorio Che credo sia tema Condiviso Serve un patto Tra maggioranza E opposizione Su questa roba Qui o no Ma questo Le grandi sfide Del paese Stiamo parlando Adesso del dramma E mi lascio Aprire una parentesi Qui serve Che tutti siamo Vicini Sono molto d'accordo A quella popolazione A quei sindaci A quella capacità Straordinaria Di relazione Dei territori Oggi Processi Alle intenzioni Chi ha fatto Chi non ha fatto È qualcosa Di sguaiato Della politica Che non ci possiamo Permettere Serve un patto Di paese Per affrontare Le sfide sistemiche Uno perché serve Un paese coeso E due perché serve Una visione Di lungo periodo Lo abbiamo visto Durante l'esperienza Del covid Ci siamo resi conto Di come eravamo Impreparati Sulla sanità E di come eravamo Impreparati A reggere questo fenomeno Abbiamo detto Dobbiamo Correggere il tiro Ce lo siamo già Dimenticati Adesso c'è il tema Del dramma Edeirogeologico E diremo Dobbiamo Correggere il tiro Ma se tra un anno Ce ne siamo già Dimenticati Alla prossima tragedia Saremo di nuovo lì A pentirci A dire Non lo abbiamo fatto Curia Due domande Le faccio La prima Lo diceva in qualche modo Elena Bonetti E tutto questo Poi come si Coniuga Con l'autonomia Differenziata Che è un discorso Poi mi pare Che ieri C'è anche un'ampia intervista Oggi Su Repubblica Mi pare Della segretaria del PD E Lischlein Lischlein Si dice Insomma Abbia teso una mano Al governo Dicendo State rinegoziando Il PNRR E allora Cerchiamo di capire Se una parte Se una parte del risorso Dei soldi che possiamo spendere Li mettiamo Su questa questione Allora Dunque Intanto Mi faccio esprimere Il cordoglio Per le vittime Insomma Di questa tragedia Che purtroppo Aumentano Ora dopo ora Visto che la situazione È davvero Drammatica Per il resto Allora Il PNRR Ha già delle misure Su cui alcuni fondi Possono essere attinti Però dobbiamo essere Anche molto chiari E molto responsabili Su questo Cioè Il PNRR Finisce Nel 2026 Noi per mettere In sicurezza Il nostro paese E per evitare Che esistano tragedie Di questo genere Abbiamo bisogno Di interventi strutturali Che oggettivamente Non possiamo pensare Di come dire Portare le fatture A Bruxelles Entro il 2026 Quindi c'è bisogno Di un piano Che sia strutturato E che sia strutturale Dove paradossalmente Lo diceva anche ieri Il Ministro dell'Ambiente Le risorse Non sono un problema Perché le risorse Ci sono E si possono trovare Il problema è Spendere le risorse E saperle spendere Torno E purtroppo Faccio un passo indietro Su una precedente tragedia Quando è successo Il problema di Ischia Come no? I soldi c'erano Erano stanziati C'era un programma Ben chiaro Su quello Che bisognava fare In particolare Su quella parte Di Isola Non sono stati spesi Perché? Perché possiamo parlare Dobbiamo parlare male Della politica Perché insomma Sennò sarebbe brutto Non farlo Però rendiamoci anche conto Che molte volte I processi amministrativi Per cui Quando la politica Sceglie Destina dei fondi Dice come devono essere spesi Poi passano mesi Se non anni Per avere qualche firma Perché i processi Vengano messi davvero In esecuzione Appena c'è un appalto Ci stanno 102 mila ricorsi Tar, Consiglio di Stato Non arriviamo più E non finiamo più Ora Il governo Ha fatto già Un primo passo Sulla riforma Del codice degli appalti Che sicuramente Semplifica E accelera Questi procedimenti E quindi Questo è già Un altro aspetto Che dobbiamo considerare L'autonomia L'autonomia Noi parliamo di Ovviamente alcune materie E di alcune procedure Ma questo Tra l'altro Il suo partito Mi permette di dire Non mi pare che sia il più Diciamo il partito Che va più in pressing Su questo Ma questo si sa E la Lega Che lo chiede Voi siete più prudenti Mi pare di capire Diciamo che ognuno Ha le sue sensibilità E noi siamo un partito Come dire Più nazionale Se vogliamo usare dei termini Quindi ovviamente Verifichiamo Che l'autonomia Ovviamente non pregiudichi Proprio questo Una unità nazionale Che significa anche Dei processi Che poi non possono Ovviamente Come dire Svantaggiare Alcune parti di territorio E servono soprattutto Però governi Forti e duraturi Perché poi Quando parliamo Di riforme istituzionali Sembrano delle cose Un po' astratte Questi processi Si possono fare Se esistono governi Che durano nel tempo E che hanno la possibilità Anche nei confronti Di chi oggi È all'opposizione Di stabilire dei patti Per cui poi Alcune prese in carico Di processi Che sono davvero Così importanti Come la tutela del territorio Non vengano poi smentiti La durata dei governi È anche questo Non legherei L'autonomia A questo disastro Non legherei La riforma Dell'autonomia A questo disastro Non c'entra nulla Questo disastro È accaduto Senza che la riforma Autonomista Allora dire Che quella situazione Peggiorerà È una forma Di maglismo Cioè De prevedo Intravedo Il futuro Si può criticare Nel merito Come distribuirà Le risorse Ma gestire le risorse Fare buona politica Non si può Legare a una riforma Che ancora deve arrivare Per una tragedia Che c'è stata E c'è ancora in corso Prima che questa riforma Che questa riforma Anche noi abbiamo Anche il senso Posso fare una domanda Supplementare Che è questa Siccome voi siete al governo No? Io dico una cosa Molto banale forse Quando si dice Ci sono troppi enti Che per esempio Sovrintendono Al governo delle acque No? Come si dice Eccetera Cioè Ovviamente Dovete mettervi d'accordo Con le regioni Perché molte competenze Sono regionali Forse bisognerebbe Fare questo Cioè Uno dice Sburocratizzare Semplificare Ma poi Queste sono le cose Che un governo Come dire D'accordo Ovviamente Con le regioni Non può farlo Con un colpo di mano Dovrebbe fare Se no Ci troveremo sempre Allo stesso punto Guardi Noi penso Abbiamo dato Proprio un segnale Da questo punto di vista Centralizzando All'interno Dello stesso ministero Quello che è seguito Dal ministro Fitto Tutta la materia Che riguarda L'Unione Europea PNRR E quello che riguarda Le politiche di coesione Per il sud Questo è il nostro modo Di fare politica Cioè di rendere Meno possibili Insomma Rivoli in cui Si perdono competenze E quindi fondi E quindi interventi Per centralizzare Quelle che sono Le politiche più importanti Su questo non è un caso Che secondo me Sul PNRR Si stanno cominciando Ad avere delle risposte Che precedentemente Si erano un po' Perse per strada Che voleva aggiungere Abbonetti Tanto su questo del PNRR Direi che le risposte Perse per strada Non c'erano Perché sono arrivate Tutte le rate Che erano state Di competenza Del governo Draghi Vedremo Vedremo le prossime Gli obiettivi A cui lo scorso anno Avevamo C'erano Meno del 50% A ottobre Per cui insomma Diciamo che No Non è così Lo sappiamo bene Che su 55 obiettivi Che dovevano raggiungere 21 erano stati fatti Altri 20 Ed eravamo In ordinaria amministrazione Parliamo di ottobre Altri 20 Erano praticamente terminati Ce n'erano 4 De obiettivi Che andavano fatti No 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 Portiamo le carte Su questo No e guardi Era la cabina di regia Del ministero Sul PNRR 21 22 Mi sembra 4 Posso chiedere una cosa Sul PNRR Visto che Torniamo poi all'altro tema Ma voi Diciamo da un punto di vista Concettuale Filosofico Quando Ormai più voci Sempre più voci De maggioranza Dicono Signori Noi tanto Non saremo in grado Perché il sistema paese Non ce lo permette Di mettere a terra Entro il 2026 Tutta quella massa Di risorse Che dovranno arrivare Dall'Europa Individuiamo delle priorità Lei su questa Discussione È d'accordo O no? Io sono d'accordo Sul fare una discussione Seria Che permetta al paese Di arrivare a usare Tutte le risorse Che abbiamo Preso Sul PNRR E di farlo Nel modo più efficace Possibile Intanto Prima di sentirmi dire Perché non si devono Costruire I 4,6 miliardi Degli asili In Ido Io mi dico Che siccome io li voglio Costruire Se serve una struttura Commissariale Che non era prevista Nel piano iniziale Perché si dava conto La si fa La struttura commissariale Quello che io volevo dire Sull'autonomia Precedentemente Non è che l'autonomia A causa di questo tipo È che serve Una governance Che mette insieme Tutte le regioni E che renda efficace Una regia Sburocratizzata Efficace Perché quei 21 miliardi Di cui si parlava Sono sparsi Nelle miriede di amministrazione E non c'è un luogo Non che centralizza Un luogo di coordinamento Tant'è che L'idea del ministro Fitto Di smantellare L'agenzia Per la coesione Vuol dire Che non hai Quello strumento Operativo Di coordinamento Che ti permette Di usare Quei soldi Che a Ischia Dovevano essere usati Così come è Italia Sicura La mano destra Non sa cosa fa La mano sinistra In questo paese Scusi Se smantelliamo L'agenzia di coesione Perché abbiamo risultati Di quello che l'agenzia di coesione Ha fatto in questi anni Vogliamo parlare Dei fondi che non sono stati Utilizzati in questi anni Grazie all'agenzia di coesione Ma si migliora Se la si dà un dipartimento Per la presenza del consiglio Ma infatti Stiamo lavorando su questo Allora Però non è che possiamo Pretendere di immaginare Che tutto quello che è accaduto In questo paese Va bene Altrimenti probabilmente I risultati sarebbero stati diversi L'agenzia di coesione Che era uno strumento Fondamentale ed essenziale Per raggiungere Risultati di spesa Appunto dei fondi Non li ha ottenuti Ci sono proprio Delle percentuali chiare Quindi il ministro Giustamente Ha pensato di dare Un'altra risposta Sulla nostra incapacità Di spendere i fondi europei Solo un flashback Mi sembra di capire Da Bonetti e da Scuria Che il problema È la burocrazia Perché la politica Allora non riforma La burocrazia Cioè quest'idea Che la politica Dice Io faccio Ma la burocrazia Mi frena Ma la politica È lì per governare il paese E anche per riformare Una burocrazia Che non funziona Se non sembra di essere Dentro canica Ti svegli e dici Oddio Ma la politica È fermata alla burocrazia Ma chi può riformare La burocrazia La politica Li abbiamo sbloccati Certo serve coraggio Perché ti metti contro Quello che è comunque Un potere Ma è ovvio Non si spari Come diceva Scuria 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 Ho fatto subito Lei sa meglio di me Che dalla riforma Bassanini Adesso non voglio Evocare Insomma Abbiamo avuto Una separazione Giusta Voluta Tra politica E burocrazia E amministrazione Su cui alcuni processi Anche di Tra virgolette Miglioramento Sostituzione Di una burocrazia Che non funziona Risultano più complessi Perché la politica Ha più difficoltà Ad entrare In processi Che non li competono più Giustamente Ingiustamente Adesso non apriamo Questa parentesi Però Cambiamo La riforma Bassanini Mica sulle tavole E i musei Esattamente Non credete Però Ci vogliamo Cambieremo La Costituzione Quindi Figuriamo Se non Cambiamo La passione Nel senso Che qui Tutti siamo Grandi Sappiamo Le cose Eccetera E i nostri Telespettatori Come dire Sono molto Attenti A quello Che avviene Io sono anni Che sento Parlare Dello strapotere Delle Sofrintendenze E da tutti I partiti Tutti ho sentito Dire No Bisogna mettere mano A tutto questo Non ho ecco Anche col vostro governo Di qualcuno Che dica Beh sì Dobbiamo ragionare Di come Rivedere i poteri Dei sofrintendenti Quindi Di cosa stiamo parlando Mi permetto di dirlo Stiamo Cosa Stiamo parlando Che ovviamente Insomma In sei mesi È difficile Non ho niente Contro i sofrintendenti Sia chiaro Neanche io Insomma Noi siamo Ovviamente Una forza Che sapete È stata l'opposizione Fino a sei mesi fa Siete da poco al governo Ovviamente metteremo mano Su tutto Spero che quando Qualcuno non metterà mano Su questa materia Non ci sarà qualcuno Dall'opposizione Che interverrà Dicendo State cancellando Non so quale autonomia Particolare Perché anche questo Accadde Allora A chiudere questa pagina Voglio sentire ancora Alberto Negri Se vuole aggiungere qualcosa Ma sapete C'è poco da aggiungere Quando si fanno Si dà colpa Alla politica Certamente Non è semplice Però dobbiamo ricordarci Che la politica Siamo noi Siamo noi cittadini Che leggiamo i politici E siamo noi Che dovremmo partecipare Alla gestione Della cosa pubblica Se poi Gli amministratori Nei piccoli comuni Non fanno Quello che devono fare Beh Lì La politica Centra forse Un po' meno Centra il fatto Che noi italiani Abbiamo Come dire Una sorta di riflesso Che ci fa mobilitare Nei momenti Come dire Tragici Come questo E poi poco dopo Ci fa dimenticare Di questi problemi Che dovremmo affrontare Come dicevo anche prima Ogni giorno Allora Facciamo vedere Il nostro contributo Corriere della Sera La 7 Per le popolazioni Alluvionate Dell'Emilia Romagna Eccolo qui Qui c'è un Conto corrente Che potete appunto Poi trovate Tutte queste informazioni Sul nostro sito Tgla7.it Vedete Un aiuto subito All'Emilia Romagna Iniziativa Come è accaduto Altre volte in passato Tgla7 Corriere della Sera Ci vediamo Dopo la pubblicità Allora Dicevamo Dei grandi temi internazionali Del vertice Del G7 L'Ucraina Resta Al centro Ovviamente Del confronto Tra i sette grandi Non solo l'Ucraina Ma l'Ucraina in particolare E tutto il rapporto Con la Cina Intanto A proposito di Ucraina Ho visto che Stamattina Il ministro Il potente ministro Degli esteri Di Mosca Lavrov Ha detto Ha annunciato Che i leader Dei paesi africani Di una serie Di paesi africani Arriveranno Andranno a Mosca In missione A giugno Questa diciamo È l'ultima Tra le iniziative Prese Per cercare Almeno Di fermare Il conflitto Poi Solo dopo Si parlerà Di pace Di un possibile Negoziato Rivediamo Diciamo I tentativi Di questi mesi Lui conosce Anche la mia posizione La posizione Dell'Ucraina La guerra È in Ucraina Per cui Il piano Deve essere Ucraino È irremovibile Presidente Zelesky Il piano di pace Qualsiasi Pace possibile Deve essere Ucraino I territori Invasi dalla Russia Devono essere liberati Ma soprattutto Con la Russia E di Putin Non si tratta Le richieste Di Mosca Non vanno neanche Prese in considerazione Stesse motivazioni Ribadite a Papa Francesco Che aveva rivelato Un tentativo Di mediazione Vaticano Durante la visita In Italia La prima del tour europeo Del presidente ucraino La proposta Di pace Di Kiev Ritiro totale Delle truppe russe Da tutte le regioni Occupate Crimea compresa Come prerequisito Ai colloqui È l'unica Accettabile Per l'Ucraina Una richiesta L'avanzata A lui stesso Zelesky Al pontefice Una condanda ferma E totale Dei crimini Della Russia Perché non può esserci Uguaglianza Fra vittima Ed aggressore Eppure Da quando ormai Più di 12 mesi fa I carri armati Russi sfondarono I confini I tavoli Le trattative E gli stessi mediatori Si sono susseguiti Nel tempo Il primo Che è riuscito A far parlare Mosca Kiev è stato Il leader turco Erdogan La cui riconferma Dipende dal ballottaggio Tra dieci giorni È stato lui Ad Ankara Nel luglio scorso A siglare Il trattato del grano Unico accordo bilaterale Andato a buon fine Che ancora oggi Permette corridoi sicuri Per le navi cariche di grano Che attraversano il Mar Nero Da tempo Le cancellerie di tutto il mondo Si sono attivate Per trovare uno spiraglio Per far dialogare Kiev e Mosca Ma senza risultati Il paese più attivo È la Cina Pechino Infatti Si è proposta Come mediatrice Tra le parti Tanto da inviare Il proprio emissario di pace Liwi A Kiev E a Mosca E nelle cancellerie europee In vista del probabile viaggio In Russia Dello stesso Xi Jinping Cina che però Viene considerata Come troppo vicina Alla posizione di Mosca Tanto da dover smentire Ufficialmente Un suo aiuto diretto In armi e munizioni All'alleato Putin Anche il presidente Brasiniano Lula In visita alla Cina Ha avanzato Una propria proposta di pace Che prevede la restituzione Dei territori ucraini Conquistata dopo Il 24 marzo Esclusa Quindi la Crimea E nel frattempo Ci prova anche l'Africa Una missione di pace Ubiata da sei Leaderi africani Partirà per l'Ucraina E la Russia Ad annunciarlo Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Insieme ai capi di Stato di Senega Zambia Congo Uganda Ed Egitto Molti Gli attori in gioco Tanti I fronti aperti Che ad oggi Non hanno ancora portato Alla fine delle ostilità E poi alla pace Che però potrebbe arrivare Entro un anno Ne è convinto Eddie Kissinger Storico segretario Di Stato americano Che alla soglia Dei cent'anni Sostiene Ora che la Cina È entrata nel negoziato Penso che quest'ultimo Arriverà al Pugli Entro la fine dell'anno Allora vado subito Da Alberto Negri Peraltro poco fa C'è l'annuncio Da parte di Mosca Che il premier russo Mishustin Io ammetto Che quando si parla di Russia Si parla di Putin Di Medvedev Non conoscevo Il nome Pensate un po' Del premier russo Ma insomma Sarà a Pechino Il 23 e il 24 maggio Quindi tra pochi giorni Incontrerà anche Xi Jinping Che sta succedendo Dal tuo punto di vista Alberto Negri Qualcosa si muove o no? Si muovono molte cose Sul piano diplomatico Abbiamo visto la missione Di Zelensky a Roma Poi adesso ci sarà La stessa presenza Di Zelensky a questo G7 Dove sul tavolo C'è l'ipotesi Di convocare Forse una conferenza Una conferenza di pace Ma si muovono Sia la Russia Che la Cina E la Russia Manda appunto Sua rappresentante A Pechino Perché in queste ore C'è stato Quello che tu accennavi prima Un vertice molto importante Tra Xi Jinping Leader cinese E le repubbliche Ex-sovietiche Dell'Asia centrale In questo vertice però Si nota L'assenza della Russia Cioè di Putin Cioè che cosa accade? Che la Cina In qualche modo E anche la missione Che tu accennavi prima Dell'inviato cinese In Ucraina Che sta girando Anche tutta l'Europa Si sta in qualche modo Smarcando Leggermente Dalle posizioni Dalle posizioni Di Mosca I cinesi Hanno compreso Benissimo Che schiacciarsi Sulle posizioni Di Mosca Gli chiuderebbe Per esempio Il mercato occidentale Il mercato europeo Metterebbe in pericolo Sempre di più Le relazioni con gli Stati Uniti Gli Stati Uniti L'Europa E la Cina Non ha nessuna intenzione Di perdere Per esempio I suoi volumi commerciali Con gli Stati Uniti O con gli europei Che rappresentano Pur sempre I suoi maggiori Partner commerciali Questo non dimentichiamocelo mai No? Per cui i cinesi Cercano di muoversi In qualche modo In maniera Come dire A molto attenta A quello che possono essere Gli sviluppi diplomatici Tra l'altro Prima tu accennavi Al G7 Il G7 Contiene anche Un altro vertice All'attere Ma si riuniranno Proprio a Hiroshima Quattro paesi L'Australia L'India Gli Stati Uniti E la Gran Bretagna Che fanno parte Di quel formato Cosiddetto Quad Che in qualche modo Deve delineare Le politiche Dell'Indo-Pacifico Compresa La vexata Questio Di Taipei Su cui La Cina Rivendica Rivendica La sua Sovranità Si sta muovendo Molto a livello Diplomatico Però Le posizioni Sono ancora Molto distanti L'Ucraina Ha detto In tutte le salse Ma l'ho detto Qui a Roma Ma l'ho detto Ieri Anche all'inviato Cinesi Li Wei Che Non vogliono Rinunciare In alcun modo A nessuna perdita Di territorio E Escludono Ogni tipo Di congelamento Del conflitto Però Queste sono Come dire Posizioni Massimaliste Vediamo Che ci sono Delle Crepe Anche in occidente Su questo Una Tra l'altro È clamorosa Forse è stata Notata Meno Dai giornali In questi giorni Ma gli Stati Uniti Quando gli europei Qualche paese europeo Come l'Olanda Ha accennato Al fatto Di dare Gli F-16 A Kiev Gli Stati Uniti Sono intervenuti E hanno detto Fermi tutti Questo Lo decidiamo Noi Sì Anche se mi pare C'è stato un ammorbidimento Nel senso Ho letto Da qualche parte Che Biden Non sarebbe più Così contrario Mi pare Poi Le notizie Come dire Non sarebbe così contrario Ma prima Prima di concedere Qualche cosa Di questo genere Chiaramente Vogliono leggere Meglio Anche Le intenzioni Di Kiev Non c'è dubbio Allora Adesso sentiamo Tutti gli altri Nostri ospiti Vado però Da Paolo Sottocorona Così ci racconta Che si prevede Anche in questo weekend Per quanto riguarda Il tempo Insomma Che ho osservato Speciale Sì Buongiorno Non ci sarà Da vedere Solo quello Che succede Sull'Emilia Romagna Purtroppo Perché il tempo Come ci si aspettava Sta peggiorando In maniera Abbastanza marcata Per il momento Ci sono delle piogge Al nord Non proprio Sulla Romagna Ma sull'Emilia Sì Quindi insomma Qualcosa Sicuramente Già c'è In quel momento La previsione Per la giornata Di oggi Complessivamente Vedete Queste piogge Moderate Sull'Emilia Più deboli Via via Che si va Verso la Romagna E le Marche E poi Cominciano A esserci Fenomeni intensi Sul Piemonte Quindi sulla parte Occidentale Centro e sud Soprattutto il sud Nuvole Poche piogge Qualche pioggia Al centro Ma non più Che moderata Giornata di domani Si comincia a vedere Questo cambiamento Perché nord ovest Ancora con fenomeni intensi Sono due poli Diversi Però C'è l'altro polo Quello che prende Le zone tirreniche Corsica e Sardegna Già con precipitazioni Anche molto forti E poi Cominciano a presentarsi Delle precipitazioni intense Anche fra centro Sud E sud Guardate la Calabria Qualche zona In Sicilia Qua siamo anche qui In zona Rosso Significa precipitazioni Particolarmente Abbondanti E anche la Calabria Sappiamo che dal punto di vista Geologico Non è Saldissima Giornata di domenica Si attenua Complessivamente Questo maltempo Ancora però Vedete come insistono Piogge Localmente moderate Sull'Emilia Deboli Ancora sulla Romagna Sulle Marche Ancora fenomeni Nord ovest Sardegna E ancora al sud Questa volta C'è anche la Sicilia Un po' Nell'occhio del mirino Quindi insomma Di situazioni tranquille Possiamo dire che Non ce n'è nessuna Insomma Dobbiamo stare Diciamo Molto attenti Molto attenti A questo weekend Dal punto di vista del tempo Ci vediamo tra poco Intanto do il benvenuto A Giorgio Quagliuolo Che è presidente di Corepla Corepla è il consorzio nazionale Per la raccolta e riciclagge E il recupero Degli imballaggi in plastica Che credo abbia compiuto ieri Le nozze d'argento 25 anni No presidente Sì buongiorno Buongiorno a lei Buongiorno a tutti Coloro che ci stanno guardando Grazie Ieri abbiamo festeggiato Questo compleanno I primi 25 anni Di attività Abbiamo fatto appunto Un evento a Roma Nel quale abbiamo Ripercorso un attimino Quello che è stato Tutto il lavoro Che abbiamo fatto In questi anni E quali sono le sfide future Che ci attendono Per cercare di Rimanere sulla stessa linea D'onda E migliorare Perché tanto quanto Al peggio non c'è mai limite Anche al meglio Possiamo dire Che non c'è mai limite Sicuramente si potrà fare Ancora di meglio Nei prossimi 25 anni Sì adesso torno da lei Intanto volevo Un po' rapidamente Una panoramica Di battuta Dei nostri ospiti A proposito Della questione Ucraina Intanto vorrei chiedere A Scurria Una cosa Perché Si citava la Cina Molto Negri Ci ha spiegato bene Cosa sta succedendo So che c'è Un insistente Pressing americano Perché noi Si rinuncia Alla famosa Via della seta Siccome giustamente Si diceva Che la Cina Tutti Ha un grande interesse In Europa Che è un grande Mercato per la Cina Come finisce Giorgio Amelori Sta prendendo tempo Che facciamo Sì insomma Una domanda Più da governo Che non da Parlamento No lo so È una riflessione È una riflessione So che ovviamente Se ne sta discutendo Ci stiamo pensando Perché intanto Le cifre che ci arrivano È che questa Grande trovata Che è stata fatta Dal governo Conte Ha portato utili Fondamentalmente alla Cina E poco a noi A noi ci ha portato niente Esatto Per cui insomma Prima di dare il là Nuovamente ad un nuovo giro Di questa via della seda Considerando anche Tutte le problematiche Che insistono Nell'influenza cinese Politica In questo momento Dove speriamo Che possa svolgere Sicuramente un ruolo importante Nel convincere Mosca Ad un tavolo della pace Ma sappiamo che Sull'altra sponda Diciamo dell'oceano Non è che siano proprio così Tranquille le ambizioni cinesi Appunto si parlava di Taiwan E quant'altro Per cui Prima di dare Una Un via libera Su questo aspetto Penso che giustamente Ci si debba riflettere Sia per motivi economici Sia per motivi politici Penso che anche La nostra intelligence Qualcosa ci stia dicendo Su questo Immagino Bonetti Perché peraltro Ci sono molte resistenze europee A Diciamo Rendere meno forti I rapporti tra noi e la Cina Penso alla Germania Per esempio Per citare un paese Cioè C'è un rapporto Di Interesse reciproco Tra l'Europa e la Cina Poi parlo da un punto di vista Ovviamente commerciale Sto parlando Immagino che il governo Le resistenze più grandi Le abbia Con la Lega Con Matteo Salvini Che era nel governo Conte Quando è stato fatto Quell'accordo Quindi spero intanto Che trovino una posizione comune Perché serve Una coesione Nella maggioranza Per avere una strategia di paese Noi Il tema è che Il rapporto Italia-Cina Non può non essere inserito Nel rapporto Europa-Cina Sì Ovviamente Nello scenario Ovviamente Di quelle mutate condizioni Che la Cina adesso Sta iniziando ad interpretare Perché anche Concedere alla Cina La regia Del processo di pace Con la Russia Rispetto all'Ucraina Significa di fatto Accreditare Che quella Sarà la nuova In qualche modo Potenza Da cui Rischiamo di dipendere Abbiamo già dato Quindi Dipendenza Diciamo Con questi contesti Non è opportuno Portarla avanti Io credo che Al contrario Serve una regia Strategica Nell'ambito Dell'Alleanza Atlantica Ma soprattutto Con l'Europa Che deve esercitare Un ruolo importante E se posso La presenza Della Premier Meloni Al G7 Oggi È una presenza Strategica Anche in vista Dell'anno prossimo Perché l'anno prossimo Non dimentichiamo La presidenza è nostra E l'anno prossimo Avremo un'Europa Con Speriamo la guerra Già finita E conclusa Ma comunque Augriamoci di essere Nel periodo Di un processo di pace Che andrà governato L'Europa Avrà le elezioni europee Nel 20 Il contesto Ovviamente È un contesto Molto delicato Quindi Il nostro ruolo Da protagonista Lo dobbiamo esercitare Con uno sguardo Bisogna tenere conto Di questi elementi Che dicevano Nebo Bonetti Mentre ancora Qui ci sono le immagini Dei grandi Del G7 Al memoriale Della pace Io francamente Non vedo rischi Di un'Italia filo cinese Anzi Mi sembra che La collocazione Atlantista Sottolineata Dal governo Meloni Sia molto salda E rinsaldata Ogni giorno Per quanto riguarda L'accordo con la Cina Gli accordi sono figli Anche dei momenti storici Dei governi Che li fanno L'unico difetto Di quell'accordo Gravissimo È che prevede Che te lo devi Disdire Prima che rinunci Con alcuni mesi Di anticipo Questo ti mette In difficoltà politica Detto questo Niente vieta Di uscire Dalla via Della seta E fare altri Accordi commerciali Con la Cina Anche perché Non è che siamo noi Che riconosciamo Un ruolo alla Cina È nei fatti Che la Cina Ha un ruolo Ce l'ha Nell'Indo Pacifico Ce l'ha Nell'economia E se un signore Come Kissinger Che diciamo Non è proprio Di primo pelo Mi sembra E mi pare ancora La sole dei cent'anni Molto lucido È un'ipotesi concreta Che si arrivi Entro la fine dell'anno Perché la Cina È entrata in gioco Significa che Quello è un player Anche perché La cosa che diceva Negri Secondo me È verissima L'influenza Sugli stan della Russia Cioè sui paesi Dell'Asia centrale Sta calando E la Cina Da questa guerra Di Putin in Ucraina Ha conquistato Zone di influenza Anche a Occidente Senza muovere Senza muovere Allora Fatemi tornare Dal Presidente Quagliuolo Presidente Quagliuolo Intanto le chiedo Ma gli italiani Noi siamo Tra i leader Del riciclo in Europa Credo Peraltro C'è una querella In Europa Riciclo Riuso C'è anche questa questione Mi pare Di grande attualità Sì Diciamo che È in atto Una proposta Di modifica Del regolamento Sugli imballaggi E rifiuti D'imballaggio Che prevede Delle novità Molto impattanti Su quello che è Il nostro sistema Perché questo Questo strumento Che tra l'altro È stato Deciso di utilizzare Il regolamento E non La direttiva Che Il regolamento È blindato Mentre la direttiva In fase di recepimento Lascia un po' Di Flessibilità Al paese Che deve Appunto Recepire La direttiva Di queste Leggi europee Prevede Che Si sia Un grande Spostamento Del focus Viene portato Più sul riuso E riutilizzo E meno sul riciclo Ma scusi Che impatto avrebbe Che impatto avrebbe Sulle nostre aziende Appunto Il nostro modello Che è un modello Che è basato Tutto sul Recupero e riciclo Ne soffrirebbe Sicuramente In maniera Significativa E soprattutto Non è giusto Perché noi abbiamo Raggiunto L'eccellenza Tenga conto Che noi siamo Al primo posto Ce la battiamo Con la Spagna Nei risultati Che raggiungiamo E sono risultati Che sono stati raggiunti Con questo modello Modello che Ha creato Tutta una filiera Industriale Che va appunto Dai recuperatori I riciclatori I selezionatori E che verrebbe Sicuramente Impattata Da una misura Di questo genere Ci sono poi dopo Anche altre Previsioni tecniche Nelle quali Non mi voglio Non mi voglio Addentrare Per non annoiare Gli ascoltatori Ma anche qui Si parla di contenuto Minimo di riciclato Dentro degli imballaggi Di riciclato Contatto con gli alimenti Tutte cose che creano Tutte cose che creano Una marea di difficoltà E che potrebbero mettere In seria crisi Una parte Della filiera industriale Con conseguente Perdita di posti E di ricchezza Per cui Non si capisce La razza di una cosa Di questo genere Dal momento che noi Arriviamo ai risultati Che ci chiedono Di raggiungere E ci vogliono cambiare Le regole del gioco Mi dice in due freshi Un'altra cosa C'è grande consapevolezza Degli italiani Per il riciclo In questo caso Della plastica Ma guardi Io direi di sì Perché le cose Sono molto cambiate Da vent'anni fa Per cui oggi C'è una coscienza Sulla sostenibilità Che è decisamente Molto più elevata Lo abbiamo anche riscontrato Tramite lo studio Ipsos Che abbiamo fatto fare E oggi gli italiani Si stanno cominciando A rendere conto Che non si può fare diversamente Cioè che è l'unico strumento Che abbiamo Per mantenere Il nostro ambiente In una maniera Quanto meno Degna Di essere Portata Agli onori Del mondo Per cui Sicuramente C'è molta più Consapevolezza C'è molta più Comprensione C'è molta più Collaborazione Per cui In questa materia Tutto parte Dal primo gesto Che è quello appunto Di conferire In maniera corretta L'imballaggio Una volta che ha finito La sua funzione Vitale Certo La raccolta Differenziata Famosa Alberto Negri Voglio sapere Se vuole dare Una chiosa Alle riflessioni Che facevamo Sulla questione Ucraina E questione Cina Ma la questione Cinese Mi sembra Particolarmente Importante Posto il fatto Che la Cina Come scriveva ieri New York Times Produce il 40% Del litio Del litio Del cobalto Ci vorranno Decenni Prima che il resto Del mondo Come dire Riesca A pareggiare La produzione Di batterie Elettriche Cinesi Questi sono dati Anche per quanto Riguarda l'Italia La questione Della Cina Per l'Italia Diciamoci la verità Non è così Preponderante L'Italia Ha un interscambio Di circa 50 miliardi Di dollari La Germania Ce n'ha di 200 La Francia Di 80-90 La Gran Bretagna Pure Ho l'impressione Però Che questa questione Cinese Sia uno strumento Dei nostri alleati Per farci pressione In poche parole Non è tanto Il nostro Volume D'affari Con la Cina Che fa paura Ma il fatto Che gli Stati Uniti Ci chiedono In qualche modo Di cassare Un accordo Dove c'è dentro Di tutto E di niente Semplicemente Per motivi politici Forse Quando ci esprimeremo Su questo punto Vedremo anche La nostra Presidente del Consiglio Ricevuta La Casa Bianca Allora Dico due cose Finali Che si intrecciano Con i discorsi Che stiamo facendo Perché Giorgia Meloni Diciamo Si è avuta notizia Del suo intervento Durante la prima sessione Stamattina Del G7 Ha detto Intanto Una cosa importante C'è stata una lettura Superficiale Dei rischi Della globalizzazione Si sono rafforzate Le autocrazie Le democrazie Si sono indebolite Dobbiamo Riprendere il controllo Delle catene strategiche Del valore Ecco Questo è un altro Grande tema Che in qualche modo Poi si incrocia Anche con tutte le partite Che abbiamo aperte In Europa No? Prima il presidente Quagliolo Ci raccontava Di questa Creda che c'è in Europa Che è una delle tante Che dovremo risolvere Penso al MES Penso alla rinegoziazione Del PNRR Tanto per capirci Quagliolo Un tweet Per i prossimi 25 anni Qual è l'obiettivo La sticella Per lei La sticella È completare La raccolta differenziata Dove ancora Non si fa Principalmente Mi riferisco Alle grandi città del sud Migliorare la qualità Della raccolta differenziata E soprattutto Trovare delle soluzioni Tecnologiche Che ci permettano Di riciclare Quella frazione Che oggi rappresenta Quasi il 40% Di imballaggi in plastica Che ancora Non si riescono a riciclare Abbiamo diverse strade davanti La principale Direi che è quella Del riciclo chimico Che pur essendo All'inizio Del percorso Abbiamo degli impianti pilota Qualche piccolo Impegnante industriale Però è una tecnologia Che sta Si sta rivelando Molto promettente E che io Penso che nel giro Di 5 anni Si potrà dare Grandi soddisfazioni Ed essere un'altra gamba Sulla quale poter Si appoggiare Per cercare di arrivare A riciclare tutto Tutto non ci arriveremo mai Però insomma Che quel quasi 40% Scenda Anche solo Di un 20 Del 20 30% Serbe già Un grossissimo successo Non c'è dubbio Poi non abbiamo avuto tempo Ma insomma Quando si parla di Cina Pensiamo anche A tutta la partita Che riguarda Le auto elettriche Insomma Nessuno credo Voglia consegnarsi Alla Cina Allora È appena arrivata Una nota Da Palazzo Chigi Riguardo Il Consiglio dei Ministri Convocato per martedì Alle 11 Dedicato in larga parte I primi provvedimenti Urgenti Relativi appunto All'alluvione Che ha colpito L'Emilia Romagna Anche di alcune zone Delle Marche Della Toscana Ecco Questo è arrivato E quindi conferma L'impegno del governo In questo senso Francesco Magnani Pronto per l'area Che tira Buongiorno Buongiorno Andrea Ripartiamo Da quelle terre devastate Della Romagna Ci collegheremo Con Lugo La nostra inviata Sta cercando Di raggiungere Il centro Della bassa Ravennate E ci sta dicendo Ma ce lo racconterà Tra poco In diretta Che è uno Dei centri Non solo più colpiti Ma che in questo momento Può essere raggiungibile Soltanto da Gommoni Ci collegheremo Con tanti Amministratori Locali Per avere Il polso Di una Tragedia Di cui ancora Non si riescono A definire Le dimensioni Del dramma E chiederemo In primo luogo A loro Che cosa serve E cosa si aspettano Dal governo In questo decreto Atteso Per martedì Ma con i nostri ospiti Daniela Preziosi Analisa Chirico Maurizio Gasparri Davide Baruffi Responsabile Enti locali Del PD Ma anche Sottosegretario Alla presidenza Della giunta regionale Delle miglia Romagna Chiederemo Un consiglio Dei ministri Convocato a una settimana Da una tragedia Non è troppo tardi E poi ancora Ci collegheremo Con dei meteorologi Per interrogarci Eventi del genere Sono davvero eccezionali O rappresentano Una normalità Alla quale Tutto il paese Deve Attrezzarsi Questo e tanto altro Tra poco All'aria che tira Grazie Chiudo Non lo consideri Un agguato L'onorevole Bonetti Perché con i social È tutto in presa diretta Volano gli stracci Nel terzo polo Tra Renzi E Calenda Dice Chiedeteglielo Che succede? Mi sembra evidente Che siamo nel pieno Di una tempesta Diciamo politica Io penso Che sarebbe Un grave errore Dividere i gruppi parlamentari E abdicare Ad un impegno Che io penso Che esista ancora Lo dimostrano I risultati Alle amministrative I territori I comuni Quindi da parte mia Lavorerò Fino all'ultimo Anzi Fino un minuto in più Per non dividersi Se ci vogliamo candidare Ad essere una forza moderata Che ricompone il dialogo E lo facciamo così Diciamo Siamo poco Almeno poco credibili Scuria Proprio deve essere A una settimana Sentiva prima Perché a una settimana Dalle Emilia Romagna Il Consiglio dei Ministri Perché il Consiglio dei Ministri Se deve essere operativo Deve capire Di che cosa stiamo parlando Cioè qual è l'entità Dei problemi E dei danni Quindi chiaramente C'è bisogno comunque Di un po' di tempo Per poi essere operativi davvero Un flash Un flash Anche Rottamare stanca Per i nostri amici Calenda e Renzo Grazie a Giorgio Quagliolo Grazie a Alberto Negri Grazie a Massimiliano Lenzi Grazie a Elena Bonetti Grazie a Marco Scuria Ci vediamo domani Domani una puntata Dedicata a tutti I temi economici Inflazione Risparmio Salari bassi Insomma Chi più ne ha Più ne metta Adesso c'è la reghettina Grazie a tutti Grazie a tutti.